Le ultime indiscrezioni vedono Anita del GF alle prese con l'ennesimo schiaffo morale, dopo la rottura con Alessio Sono trascorsi ormai diversi mesi dalla fine del grande fratello ma ancora oggi molti ex concorrenti fanno parlare di sé Tra di loro c'è Anita Olivieri, finita spessa al centro della cronaca rosa durante la permanenza nella casa per i suoi continui batti becchi con Beatrice Luzzi Tra le due non è mai corso buon sangue, complice il rapporto che le legava un altro inquilino, Giuseppe Garibaldi, con il quale la stessa Anita aveva instaurato uno stretto legame di amicizia Tra Garibaldi e Beatrice invece era nata una complicità profonda, che ha dato seguito poi a una travolgente storia d'amore Questa situazione però ha fatto altro che inasprire la relazione tra le due donne, le quali, una volta uscite della casa, sembra che non si siano più rivolte la parola Ma nelle ultime ore non è stato questo a far parlare di Anita, bensì una notizia relativa al suo compleanno festeggiato poche ore fa nella capitale GF, duro colpo per Anita dopo la rottura con Alessi, ex Geffini snobban il suo compleanno In occasione del suo compleanno, la scorsa settimana Anita è partita per Ibiza, insieme ad altri ex inquilini, tra cui Paolo Masella e Letizia Petris Con loro c'era anche Alessio Falsone, con il quale la ragazza aveva intrapreso una relazione amorosa all'interno della casa, anche se alcuni giorni fa e due hanno condiviso con i fan la loro decisione di lasciarsi Tornata dalla vacanza spagnola, la Olivieri ha deciso di festeggiare insieme ad altri ex concorrenti del reality, ma secondo l'esperto di gossip a Medeo Venza, non tutti gli invitati si sarebbero presentati nel locale romano dove si sarebbe svolta la festa Tra i presenti c'erano Marco Maddaloni, Fiordaliso e Ciro Petrone, e la coppia formata da Greta Rossetti e Sergio Maria Dottavi Non mancava nemmeno uno degli inquilini più controversi dell'ultimo grande fratello, Massimiliano Varrese, ex attore e ballerino che dopo l'esperienza da reality ha deciso di dedicarsi alla sua prima passione, la musica, infatti un paio di giorni fa ha pubblicato un nuovo brano chiamato Fai Clap Clap La festa di compleanno dunque è stata il giusto pretesto per una riunione del cast, anche se diversi inquilini non hanno partecipato Tra questi Rosicin, con la quale Anita aveva stretto un ottimo rapporto di amicizia nella casa, e Giuseppe Garibaldi, che tempo fa l'ha accusata di aver contribuito alla fine della sua relazione con Beatrice